Grazie. Grazie. A inizio la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Rivolgo anzitutto, facendomi interprete del sentimento dell'intera comunità universitaria, un deferente ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per avere accolto l'invito ad onorarci con la sua presenza. La cerimonia che per tradizione celebra l'avvio delle attività accademiche in questa sede romana assume uno speciale e intenso valore simbolico, in particolare nell'accezione che, di quest'ultimo termine, propose Paul Ricoeur, per il quale il simbolo è qualcosa che dà a pensare, che offre di che pensare. Un pensiero che in questa solenne circostanza si rivolge al ruolo, alle motivazioni, al senso di una università nata ex corde ecclesie per servire il proprio Paese, senza smarrire il senso della prossimità ed indicare la via di percorrere, le rinnoviamo, Signor Presidente, i più alti sensi della nostra stima e riconoscenza. Grazie.